allora buonasera benvenuti si ha detto subito che essere qui con luca briasco traduttore di king non solo traduttore di king a parlare di king per me come l'appassionato di tennis che beve un bicchiere con sinner questa sera perché è una delle cose migliori che possa capitare alla fedele elettrice che è qui di cosa parliamo stasera parliamo di king ovviamente anche perché luca briasco ha scritto per salani il re di tutti un ritratto di steven king che è anche una storia un passo doppio del traduttore dell'americanista dello studioso e di colui che va detto è stato fra i primi a spezzare questa sorta di sortileggio che ancora in piccolissima parte persiste su king nel nostro paese il più amato il più venduto per lungo tempo il più sottovalutato perché king lo ricorda spesso e forse avremo occasione di parlarne lui ricorderà per tutta la vita una caricatura che lo ritraeva come un grosso ratto intento a scrivere come un forsennato alla macchina da scrivere mentre i dollari piovevano intorno a lui chi vende molto e chi è molto amato e in questa sala ci sono molti fedeli kingiani o constant reader come li chiama king e spesso guardato con sospetto king lo è stato a lungo devo dire che con ha sempre sofferto molto del fatto che non gli venisse chiesto mai di parlare della propria lingua del proprio stile ma che gli venisse chiesto da dove prende quelle idee per quelle cose così spaventose lui rispondeva non è che quando uno scrive un manuale come fare un milione di dollari vivere felici gli si chiede qual è il suo trauma infantile e perché scrive questo detto questo luca è sempre stato prima di diventare di infilarsi in questa avventura ne parleremo di tradurre king tradurre king significa tradurre un voluminoso numero di testi in pochissimi anni con pochissimo tempo quanti quanti in cinque anni dieci ecco significa questo poi libri piuttosto densi ma significa anche andarsi a confrontare con tutte le voci degli altri traduttori e lo vedremo e significa anche cercare di far capire quella che è ormai dovrebbe essere la realtà assodata king non è solo il re dell'horror come viene chiamato ma uno dei maggiori scrittori contemporanei viventi grazie a dio io partirei proprio dal gra che non sta per grande raccordo anulare ma sta per grande romanzo americano e devo dire che luca in questo libro che ripeto è davvero un po biografia un po autobiografia un po analisi letteraria lo dice subito esiste il grande romanzo americano sì e lo ha scritto king quando ha scritto it perché la chiave di tutto in king e vorrei partire da qui e mettere persone ordinarie in situazioni straordinarie mentre nella maggior parte della letteratura cosiddetta mainstream si fa esattamente il contrario si mettono persone straordinarie in situazioni ordinarie e questa è la chiave che ci permette di capire king sì io devo dire la verità quando mi è stato chiesto di scrivere questo libro perché questo libro mi è stato chiesto io ho già cominciato a tradurlo da un po ovviamente credo che anche nella scelta di farmelo tradurre centrasse un pochettino il fatto che io quando ho scritto un altro libro diciamo il mio libro precedente che è americana che era una specie di viaggio nella letteratura americana contemporanea io a un certo punto avevo insinuato già allora che ho fermo restando e questa cosa del grande romanzo americano anche un po stancato no è un po una una butade non significa niente grande romanzo americano cioè se volendo forse grande romanzo americano vero e quello fondativo e moby dick eccetera insomma forse non c'è bisogno di continuare a inseguirlo però detto questo se uno dovesse guardare la scena contemporanea e cercare il grande romanzo americano dentro la scena contemporanea it ha molto più diritto di esserlo o quantomeno ha lo stesso sacrosanto diritto per esempio non so di underworld di delillo o potrei citarne altri faccio questa cosa in americana e poi poco tempo dopo per una serie di coincidenze vengo contattato e mi viene chiesto di tradurre di cominciare a tradurre king e poi ci torneremo perché sulla questione delle voci di king e io ho proprio un approccio che tiene molto cerca di tenere molto conto di chi mi ha preceduto in qualche maniera no però ecco mi viene chiesto a questo punto scrivi anche un libro su king chi se non tu lo traduci lo studio leggi da tanti anni io dico ma sì però devo trovare una chiave a un certo punto la chiave effettivamente mi viene da questa intervista che tu citavi cioè dal fatto che all'improvviso leggo una una frase che fra le altre cose king formula del di fronte all'ennesimo intervistatore che gli dice per l'ennesima volta ma non sei stanco di essere considerato soltanto il re dell'horror di essere considerato uno scrittore da supermercato e lui risponde dice ma guarda in realtà stanco si fa per dire nel senso io semplicemente faccio il contrario di quello che fanno molti scrittori che vanno per la maggiore sono quelli amati dagli accademici dai critici eccetera loro per l'appunto scrivono di persone straordinarie in situazioni ordinarie quindi partono dal presupposto di una superiorità del personaggio rispetto al mondo in cui si trova a operare e in effetti tanto romanzo del novecento è figlio di queste considerazioni non lo so pensiamo a steven dedalus di joyce per esempio sicuramente non si sente allo stesso livello del mondo che ha intorno ma si sente molto sopra e questo è il suo problema io faccio il contrario prendo una persona qualunque la ficco in una pentola a pressione e vedo che cosa gli succede questa chiave secondo me è una chiave che ci restituisce il senso profondo per il quale king è oggettivamente insieme il grande scrittore popolare e grande scrittore tucur degli ultimi 30 40 anni cioè è anzi 50 ormai perché il prossimo anno festeggiamo il cinquantenario dell'uscita di carri quindi ormai sono 50 anni se king in 50 anni si è imposto sempre più come grande scrittore popolare ma il grande scrittore punto e basta degli stati uniti e proprio perché questi personaggi che lui ci porta in scena sono personaggi che ci riguardano che ci somigliano in un modo così profondo che forse bisogna tornare indietro molto nel tempo per trovare qualcosa di simile forse bisogna tornare indietro al grande romanzo dell'ottocento forse bisogna tornare indietro a dickens forse bisogna tornare indietro a hugo a dumas cioè ai grandi scrittori che anche allora a loro volta non è che fossero particolarmente amati o rispettati perché dickens che era un altro che vendeva l'ira di dio ecco quando la gente stava in fila ogni volta che usciva una puntata di un suo romanzo gli altri intellettuali o scrittori inglesi non è che lo amassero particolarmente anzi dicevano vabbè ma dickens è cheap solo che oggi si legge dickens e secondo me domani si leggerà king e qualche uno degli altri non so se li leggeremo tutti ecco anche di molti degli scrittori che ancora oggi presso certa critica vanno per la maggiore ma infatti a me fa un po sorridere questa polarizzazione che non è nuova in realtà le polarizzazioni di oggi sono di altro tipo però questa polarizzazione fra trama non trama che è qualcosa che arriva fino a noi è qualcosa che appunto risale a dumas risale a dickens e laddove e tu lo ricordi in questo libro flobert dice ah sì e allora scriverò un romanzo senza trama come se e questo è qualcosa di cui king ha sofferto e i grandi scrittori popolari non avessero una lingua basterebbe leggere tra tutti i romanzi di king ne cito uno che è la storia di lisei che andrebbe ritradotto se posso se vedi tu che puoi fare però la storia di lisei è uno dei romanzi più sperimentali di king anche linguisticamente perché basta aver letto una volta king in originale per capire che lui ha una lingua tutt'altro che semplice non solo per le commistioni dialettali ma per la enorme capacità di rimandi che credo facciano sudare freddissimo i suoi traduttori e per la complessità della costruzione quindi questa faccenda per cui chi ha trama non ha lingua è francamente insensata è totalmente insensata e si basa secondo me su un'idea di stile e su un'idea di tecnica che è totalmente insensata ovvero sia si passa sostanzialmente si pensa che la tecnica abbia a che fare con la cosiddetta ricercatezza con la cosiddetto qui in italia lo potremmo chiamare bellettrismo no cioè quest'idea proprio le bellette quindi bellettrismo che poi in realtà ha un derivato francese ma è un po l'idea che bisogna essere eleganti ricercati king non è non vuole non è e non vuole essere ultra ricercato e ultra elegante in king tutto tutta la scrittura è funzione di però funzione di che cosa di storie che si permettono delle complessità anche strutturali che se non sono sostenute da una lingua non sono praticabili a me piace sempre fare un esempio da un libro che ho tradotto io che non è un libro dei miei preferiti e neanche dei tuoi e lo so che è l'istituto no vero però l'istituto com'è costruito voi pensateci un attimo cioè le prime 30 40 pagine dell'istituto raccontano la storia di un tizio che fa il poliziotto in florida che a un certo punto combina un guaio mentre mentre lavora come poliziotto quindi viene indotto non viene licenziato ma viene indotto ad andarsene per altre cose buffamente sta su un aereo e arriva il solito tizio della cia o dell'fbi che deve prendere il volo e quindi gli danno pure un sacco di soldi per lui molto volentieri scende dal volo si fa dare i soldi prende una macchina a noleggio arriva in un paesino del south carolina dove comincia a fare il guardiano notturno siccome è uno che il mestiere lo conosce sventa una rapina diventa popolare e siccome la carica di sceriffo in america come molti di voi sapranno è elettiva viene eletto sceriffo punto sono 50 pagine 40 50 pagine ci compaiono una decina di personaggi in queste 50 pagine poi boom lui prende parte e ricomincia da capo racconta la storia per l'appunto di questi ragazzini dotati di poteri speciali non è una storia nuova è una sorta di di l'istituto per certi versi una specie di remake di tante cose che lui ha già fatto questi ragazzini vengono rapiti da una misteriosa organizzazione vengono portati in questo istituto e vengono sottoposti a una serie di torture per essere per per estorcere diciamo trasformare il loro potere in un'arma da utilizzare non si sa bene perché cosa prima che ricompaia noi ovviamente ci rimane all'inizio l'interrogativo e mo lo sceriffo cosa c'entra che fine ha fatto king si permette di far ricomparire lo sceriffo non a pagina 120 103 no no a pagina 290 quindi si permette di andare avanti per 250 pagine e quando poi a un certo punto noi capiamo finalmente a che servono tutti questi personaggi che ci ha presentato il punto non è soltanto che capiamo a cosa servono il punto che dopo 290 pagine ci ricordiamo perfettamente chi sono perfino il personaggio minore che ha detto quattro battute in tutto ora se questa non è tecnica poi bisogna cominciare a discutere la tecnica che cos'è perché dal mio punto di vista esistono pochi scrittori anche italiani che oserebbero fare una roba del genere tant'è che io quando l'ho tradotto sono andato in crisi perché io appunto il libro leggo prima e dico porca miseria qua se io non riesco traducendo quei pezzi a rendere tutti così riconoscibili insomma io alla fine ho utilizzato la cavia che è mio figlio e ho detto ti leggi sto pezzo per favore ti leggi queste 300 pagine lui per fortuna una specie di automa che legge tipo 500 pagine al giorno per abitudine e quindi se le lette io alla fine gli ho domandato detto senti ma quando arrivano sti personaggi dice sì sì e questa era quella che faceva così quest'altra cioè e allora ho detto vabbè ok non l'ho tradito non l'ho tradito però io credo che qui si passi questo è quello che va considerato tecnica king è a questo che lavora quando tu parlavi di rimandi è questo è questa tessitura che lui riesce a creare e capisco che sia anche seccato quando a un certo punto gli dicono e vabbè ma tu sei tutto trama cioè anche perché poi la trama in realtà in alcuni casi lo sappiamo cioè poi può essere perfino il suo punto debole in alcuni libri no perché lui poi a questo modo ricomporre per cui non sa mai spesso non sa come va a finire quello che fa e non sempre ne viene fuori bene cioè il primo libro che ho tradotto io era di outsider è un caso clamoroso proprio di libro che inizia in modo stupendo e che poi si perde completamente per strada perché secondo me anche lui aveva avuto quest'idea fighissimo mi metto a scriverla e poi dopo a un certo punto si è trovato in un binario morto quindi ecco venire definito uno scrittore di trama per lui a maggior ragione un po offensivo e limitativo no ma io rilancio a questo punto perché non è solo una questione di rimandi interni interni mi hai fatto venire in mente in quell'inizio dell'istituto che è folgorante effettivamente che in realtà king lo ha usato per preparare billy summers secondo me perché lui fa queste cose straordinarie tutta l'opera di king può essere letta alla luce di una grandissima meta opera che è la torre nera dove la maggior parte che è una saga fantasy western che scrive king scrive parallelamente si ferma salvo poi ogni tanto innamorarsene e provare a tornarci e ogni libro di king può essere letto alla luce della torre nera tutte le strade servono i vettori e tutti i libri di king servono la saga della torre nera non solo l'elenco dei rimandi sarebbe sterminato esiste una pagina wikipedia solo di rimandi fra i romanzi di king e la torre nera però che significa significa che sta scrivendo l'istituto scrive quelle prime pagine decide che quella storia può ispirare un'altra e scrive billy summers prima ancora sta per scrivere doctor slip che è il seguito di shining ha un'idea e scrive si ferma e scrive joyland che è un libro non fantastico in questo caso di una malinconia di una dolcezza incredibile ma tutta quella storia quella vita dei giustrai gli servirà per far lentare un doctor slip e cosa intendo che tutti i romanzi di king fanno parte di uno straordinario affresco dove tutto parla con tutto e io non so quanti scrittori della storia della letteratura siano riusciti a fare questo a me ne vengono in mente difficile farsene venire in mente qualcuno soprattutto impensabile farsi venire in mente qualcuno che abbia costruito un architettura così complessa e che continui a costruirla perché il punto che non ha mai smesso e che i veri appassionati sanno perfettamente che anche le cose che lui sta scrivendo ora che ovviamente hanno una vena più meno cioè non hanno la furia sicuramente delle prime opere cioè d'altronde come faccio regolarmente a ogni presentazione allora se vogliamo continuare a dire esiste uno scrittore che allora facciamo la prima domanda cioè esiste uno scrittore che in 13 anni dal 74 all'87 tira fuori e io lì potrei cominciare l'elenco una specie di mitragliata no carry e notti di salem shining l'ombra dello scorpione stagioni diverse la zona morta cujo hit pet cemetery e potrei miseri e potrei continuare cioè chi è che è stato in grado in 13 anni di scrivere probabilmente almeno 12 capolavori secondo me nessuno allora l'unicità di king è di doppia natura prima c'è un'unicità clamorosa che è quella di di come lui esplode ecco di come nel momento in cui lui arriva perché in mezzo naturalmente a queste cose che cito nel frattempo comincia a venire fuori la torre nera perché comincia quasi da subito insomma comincia prima un po in tralice un po quasi sotto traccia e poi piano piano viene fuori e poi a un certo punto soprattutto dopo il famoso incidente esplode completamente diventa la dominante della sua produzione in una certa fase no però in realtà c'è da subito e lo sappiamo adesso è uscito è uscita la famoso poem no l'uomo in nero e due giorni fa procurato è uscito proprio due giorni fa e anche lì quello è un altro nucleo generativo addirittura che risale ai tempi universitari cioè uno che ha sempre pensato con una capacità di globalità di pensiero che è una roba quasi irripetibile forse bisogna trovare certi grandi creatori di mondi che hanno molto a che fare col fantasy forse per trovare qualcosa che vagamente vagamente somigli ma il punto che poi quelli non hanno la trasversalità totale e sconvolgente di king che ha anche una trasversalità di generi cioè il fatto proprio di spaziare dall'horror al fantasy al western al crime al mainstream puro e fare tutto lui fa tutto e in realtà secondo me fa tutto benissimo quando mi dicono che non è un bravo scrittore di thriller io rispondo leggetevi billy sammers poi posso capire che agli appassionati di horror molti a molti non piace billy sammers io un'altra polemica continua è questa perché per me billy sammers è il capolavoro del king ma del king degli ultimi anni sono d'accordo ma anche la trilogia di mr mercedes ma tu hai detto la parola magica hai detto fantasy allora king è stato un grande ammiratore di tolkien in fila il signore degli anelli proprio in joyland che diventa il signore degli anelli è il libro di formazione del protagonista mentre sta progettando la torre nera dice c'è tolkien che sbetta come una montagna non posso seguire la sua strada quindi dovrò incrociarla con il western ora è sorta questa strana consuetudine per cui quando si parla di tolkien si parla dell'uomo tolkien in certe mostre che stanno a roma e vabbè lasciamo perdere per carità di dio ecco noi però un pochino di uomo king vorrei che parlassimo perché non c'entra niente con il parallelo che si fa con l'uomo tolkien e l'opera di tolkien però la vita di king e l'opera di king hanno dei punti in comune molto seri king è stato un bambino senza padre è stato un bambino cresciuto da una madre single ruth che ha si è sfiancata di lavori per poter tirare avanti e per far crescere i due figli ci sono molte ruth nei romanzi di king ci sono le ruth cattive diciamo così tra virgolette penso acquari in atlantide quando l'iz è appunto una madre single che deve mandare avanti la famiglia lui e suo figlio lo fa anche con con molta 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 durezza ci sono le ruth in molte donne di king ci torneremo ma soprattutto ci sono molti padri molti padri che spessissimo sono dei personaggi negativi sono dei personaggi assenti o sono dei personaggi violenti non noi non sappiamo se il padre di king fosse un violento perché sparì totalmente presto che non ha lasciato traccia però di certo e qui così arriviamo dritti dritti ci liberiamo subito della polemica su shining meglio il libro meglio il film ma di certo king aveva perfettamente ragione nel dire che kubrick aveva tradito la sua idea perché ha tagliato fuori da quel pur meraviglioso film tutta la potenza nera ma non solo nera della figura del padre accordissimo cioè io ho provato a ho dedicato molte pagine nel libro a questo tema e le ho dedicato partendo però dal discorso del padre cioè a me non interessava stabilire categorie classificazioni di merito tra film e libro anche perché il mio percorso di lettore di king ha iniziato proprio a 16 anni quando io sono andato a vedere shining io ho visto il film ho detto sono rimasto fulminato da quel film comunque però mi sono andato a leggere il romanzo perché poi ero fondamentalmente un lettore e finito il romanzo detto ok per questo romanzo è stupendo ma col film c'entra poco oggettivamente quando sono andato a rileggere un po quello che che king ha detto più volte king proprio anche per king è diventato una fissazione quel film tanto che a un certo punto kubrick gli ha detto proprio guarda sì ti restituisco i diritti per fare il tuo adattamento basta che ti stai zitto perché non ti posso proprio più sentire non ti sopporto più no allora effettivamente king è un po maniacale quando si fissa su qualcosa pensiamo a a trump negli ultimi anni diciamo che tende a essere piuttosto una mitraglietta no allora però in quel caso specifico lui aveva una ragione di fondo e non è un caso una ragione di fondo che si ricollega al discorso uomini ordinari in situazioni straordinarie fra l'altro cioè il jack torrance di king è un uomo ordinario in una situazione straordinaria un uomo ordinario che si porta dietro delle ferite spaventose ha avuto un padre violentissimo ha assistito a cose inenarrabili quando era ragazzino e la voce del padre continua a risomagli all'orecchio da te che king a un certo punto dice guardate che certo l'overlook hotel è infestato sicuramente ma il vero fantasma in questo libro è il padre il che ci riporta vabbè ad amleto lasciamo perdere insomma tante cose questa è anche una specie di amleto riletto al contrario in cui il padre non è la figura virtuosa dell'amleto cesperiano ma è uno che invece invita ripetutamente a fare il male invita ripetutamente a punire arriva ribadire una logica violenta e punitiva che è la stessa che ha praticato no il tema è quello lui è combattuto fra la coazione a ripetere ciò che ha visto su suo figlio e l'amore però disperato che lui apre il figlio questo amore king lo ribadisce in tutti i modi nel corso del romanzo addirittura wendy la moglie di jack è invidiosa perché loro hanno un rapporto speciale questo padre e questo figlio tutto questo amore viene trasformato invece in un rapporto completamente congelato nel film e soprattutto questa persona ordinaria questo jack torrance che è un poveraccio alla fin fine un professore che è stato cacciato dove insegnava perché appunto ha avuto un accesso di rabbia e ha malmenato uno studente che peraltro se lo meritava largamente insomma molto antipatico però insomma ha trasceso e quindi è stato cacciato e che sta lì per provare a scrivere sta benedetta commedia che non riesce mai a scrivere quindi è uno scrittore totalmente fallito ecco questo personaggio quando king viene a sapere gli viene detto chi sarà l'attore che interpreterà il personaggio lui comincia a capire che qualcosa non va è del tutto ovvio perché jack nicholson tutto è forché una persona ordinaria e kubrick oltretutto gli fa fare il matto peggio ancora di quanto nicholson non avesse fatto simulando la follia in qualcuno volò su mito del cuculo a quel punto lui giustamente si tradito giustamente si sente tradito il che non toglie niente alla qualità del film di kubrick alle invenzioni anche di sceneggiatura di cui è pieno il film di kubrick ricordatevi che le famose gemelline tenni viene a giocare con noi non sono roba di king sono roba di kubrick per esempio il famoso all work and no play cioè quello che wendy trova sulla macchina da scrivere di jack torrance è un'invenzione di kubrick ci sono delle cose meravigliose anche in sceneggiatura ciò non toglie che king si sente refraudato e ha ragione e ottenuto king arriva a dire una cosa sul rapporto col padre che io ho trovato terribile quando l'ho letta ma anche profondamente vera cioè alla fine lui racconta appunto questo padre quest'ennesimo padre fallimentare e però dice anche una cosa dice comunque in ogni caso sempre meglio un padre così che non quello che io non ho avuto perché io non ho mai avuto un padre quindi non ho neanche potuto confrontarmi e al limite anche incazzarmi al limite anche scontrarmi con mio padre mio padre mi ha negato anche la possibilità di scontrarmi con lui è sparito e mi ha fatto una cosa che non gli perdono mai infatti lui parla del padre quando lo intervistavano dicendo quel bastardo quel cioè con una violenza verbale che appunto neanche a trump è riuscito a riservare si sta rifacendo ampiamente negli ultimi tempi devo dire che da root invece king ha preso se posso dire una delle caratteristiche più rare e dunque preziose in uno scrittore maschio cioè la capacità di saper non solo raccontare le donne ma da saper raccontare ma fin dall'inizio la violenza contro le donne lo ha fatto in parting carry che è un libro straordinario sul bullismo femminile tra l'altro che andrebbe diffuso nelle scuole proprio per far capire cosa può accadere lo ha fatto ovunque lo ha fatto in shining lo ha fatto in dolores claiborne che è uno dei suoi romanzi magistrali lo ha fatto nel gioco di gerald che ne discende l'ha fatto in rose madder che a te non è piaciuto tanto ma a me sì invece perché non è piaciuta la deriva finale perché king ogni tanto cade sui finali ma potremmo parlarne a lungo però rose madder che è uno dei due romanzi insieme a insomnia dove king mette addirittura in scena i centri antiviolenza e dove si scaglia trump non c'era ancora ma contro i teocon che sono un po' l'equivalente dei nostri simpatici provita e famiglia quelli che gettano i bambolotti imbrattati di sangue nei consultorio fanno le stanze dell'ascolto king li è sempre attaccati dal primo momento pur essendo pur sospendendo il giudizio sull'interruzione di gravidanza ha sempre odiato i teocon e odiato quelli che violentavano psicologicamente le donne l'ho fatto in notte buia niente stelle che è uno della raccolta di racconti più apertamente schierato lo fa in olli allora tra l'altro questa cosa comica non è piaciuta facebook questo sembra una cosa personale ma in realtà è molto politica perché ieri facebook mi ha bloccato sono ancora ristretta per aver postato una frase di king un pezzo di un'intervista di king dove lui parla della violenza contro le donne parla del maschile un'intervista molto bella del 98 in cui parla dei maschi che ogni tanto hanno il fuoco nelle ali e quindi sono sopraffatti dalla rabbia e conclude dicendo a volte siamo dei grossi animali ban vabbè comunque era king e non e non la lipperini ma la cosa interessante è come lui riesce a vivere ed è difficilissimo immagino per un uomo quello che le donne sprovano quando subiscono violenza e notte buia niente stelle nel maxi che maionista dove descrive la reazione dopo uno stupro beh insomma conosco pochi scrittori che saprebbero fare la stessa cosa infatti a me io ancora adesso ancora adesso mi domando come faccia nel senso che non è soltanto appunto come giustamente dicevi tu il fatto di provare a calarsi una prospettiva femminile cioè questa è una cosa che è antica quanto quanto il romanzo no cioè pensate che ne so madame bovary semo ha con tutto che anche quello interpretato a volte un po malino no però è proprio il fatto che king non conosce e anche in questo c'è la dimostrazione del coraggio dello scrittore che è un'altra cosa che non sempre a king viene attribuita proprio perché vende tanto eccetera eccetera di solito il vendere tanto viene considerato no nel nostro mondo una specie di cessione al gusto altrui king se ne frega allegramente e non ha limiti e non si pone limiti cioè come abbia fatto uno scrittore maschio soprattutto di questi tempi a prendersi la briga letteralmente riscrivere maxi camionista con tutti i rischi del caso e a superare tutti i rischi del caso perché non c'è stata una voce anche femminile che abbia detto ma come si permette di fare una cosa del genere eppure c'è una descrizione in soggettiva femminile di uno stupro e di tutto quello che ne consegue che è non solo terrificante ma credo io poi naturalmente sono maschio quindi ho una limitazione in questo però molte lettrici mi hanno detto è esattamente cioè io mi ci riconosco in questa cosa cioè io sono cioè è una descrizione forse la descrizione più vera più profonda che la letteratura abbia dato della violenza subita da una donna ora questo lui lo ha fatto come giustamente ricevi tu tante volte perfino it insomma ovviamente in it c'è tutto tutto quello che che l'unica donna del gruppo diciamo subisce dal padre e poi dal marito che sono delle scene terribili anche quelle no king ha detto più volte cioè king è uno che sostiene con estremo candore estrema semplicità che semplicemente le donne sono dal suo punto di vista per tantissime cose nettamente superiori agli uomini cioè io ho letto ripetute interviste e lo dice partendo dalla sua esperienza perché per lui la sua vita significa due donne essenzialmente che si sono anche passate un po idealmente il testimone perché hanno coesistito nella vita di king per pochi anni in realtà perché questa straordinaria madre che lui ha avuto e poi una madre che è morta prima di poter vedere che è ripubblicato ha letto le bozze e ha detto al figlio diceva è un buon è un buon libro però tu dici sempre un sacco troppe parolacce troppe parolacce e lei era un po diciamo una donna straordinaria anche un po puritana per cui addirittura quando lui pubblicava no i primi racconti i primi racconti di king escono per queste riviste diciamo per uomini in cui c'è qualche nudo diciamo anche abbastanza casto non è che fossero proprio particolarmente spinte però root pazientemente ritagliava i racconti e poi li rincollava per non far vedere alla madre dove uscivano perché lei si sarebbe rimasta però ecco c'è questa fase in cui per breve tempo coesistono le due donne della sua vita e poi la vita prende idealmente il testimone però da quando lui a due anni il padre se ne va fino fino a oggi fino a tuttora lui ha avuto due persone che non solo due donne che hanno dato delle una dimostrazione di forza di tenacia il termine è orrendo in italiano perché mai sto resilienza non si può più sentire però in inglese resilience è il termine giusto per definire ciò che sono queste donne che non si fanno piegare da niente che non si spaventano di niente e che come dice king non fanno mai mancare quello che conta perché king ha detto più volte io sono cresciuto in condizioni economiche estreme no c'è un periodo in cui root lavorava in un forno loro l'unica cosa che mangiava non i biscotti rotti perché lei riportava a casa i biscotti non vendibili e quello era il cibo per tutta la famiglia però lui dice io non mi sono mai sentito povero perché con mia madre era impossibile sentirmi povero perché mia madre mi amava e mi dava talmente tanto amore che io non mi sono mai sentito povero ora tutto questo non è solo è molto di kenziano se ci pensiamo e king prima di essere un grande scrittore di kenziano sembra un personaggio uscito dal romanzo di dickens questo ragazzino appunto senza più un padre con questa madre che si deve sbattere cambiando si trasferiscono in continuazione perché lei per poter lavorare deve mollare se i due figli ai vari parenti e quindi va dai parenti sia suoi sia i parenti di donald per riuscire in qualche modo a piazzare questi due figli e ne fa tempo trovare dei lavori veramente sembra un romanzo d'appendice un romanzo di orfani o comunque perché king in qualche modo è un orfano di padre ecco anche se poi scoprirà che il padre bellungi all'essere morto si è rifatto una famiglia ci ha avuto altri figli eccetera eccetera però ecco questo tipo di storia di immaginario che viene evocato dentro questo immaginario le donne sono decisive lui non avrebbe probabilmente neanche esordito senza senza tabita a un certo punto voleva smettere di scrivere aveva buttato carri nel cestino aveva buttato carri nel cestino e l'aveva buttato in base al famoso principio molto americano scrivi di ciò che sai lui diceva io che cosa ne so se è ragionevole pensare che a questa povera ragazzina che ha le sue prime mestruazioni ed è terrorizzata dal sangue perché non sa niente di sé perché ha una madre che le ha insegnato a negarsi il corpo è ragionevole che l'atto di bullismo che subisce sia un bombardamento di assorbenti perché questo succeda bisogna che gli assorbenti vengano distribuiti gratuitamente io non lo so se in una scuola femminile questo avviene insomma a un certo punto si deprime e butta tutto arriva da vita legge gli dice scuola perché buttato questa roba perché io cosa ne so e lei risponde io che ci sto a fare quindi in buona sostanza lei gli fa recuperare il testo attraverso il quale finalmente lui supererà la sequela dei rifiuti che aveva ricevuto cioè è un personaggio sono due personaggi di straordinaria forza e lui questa forza la conosce e sa di non averla perché lui invece lui steven king uomo questa forza non ce l'ha ovvero sia ne ha una sola la costanza ecco infatti qui volevo aprire un piccolo una piccola parentesina da traduttore una delle poche cose che mi dispiacciono nel seguire chi m'ha preceduto il famoso fedele lettore ecco perché fedele non è fedele cioè fedele in originale non è faithful ma è constant e io insisto sul fatto che faithful e constant sono due cose diverse perché il faithful è il fedele è quello che proprio appunto tu puoi anche dire domani no puoi dire sono amico di donald trump e ci vai a braccetto in giro e siccome fedele a criticamente accetta qualunque cosa tu faccia molti lettori di king non accettano ma anche quando trovano da criticare un romanzo di king lo comprano comunque sono costanti non fedeli e king a sua volta è un costante e il padre era come la madre gli dice a un certo punto un incostante sappiate che il padre scriveva pure lui cioè a un certo punto quando quando king trova una casa in una delle zie in una scatola una serie di tascabili fra cui una raccolta di racconti di lovecraft va dalla madre e dice scusami ma questi libri che erano di papà e lei risponde sì perché tuo padre era uno che leggeva non solo ma scriveva pure ha anche provato a mandare dei racconti a delle riviste ma poi siccome gli erano respinti ha smesso subito perché sai lui è sempre stato un incostante e usa letteralmente questo termine king da quel momento decide di essere un modello di costanza è il famoso chiodo che lui appende alla parete della cucina in cui ficca tutte le lettere di rifiuto una dopo l'altra fino a quando non gli accettano un racconto cioè lui diventa il contrario del padre grazie però a chi grazie a chi gli ha dato i primi 25 centesimi con cui gli ha pagato il primo raccontino e king dice sempre sono diventato allora uno scrittore professionista perché sono stato pagato per la prima volta la stessa donna che gli ha comprato una macchina da scrivere che poi ricomparirà in miseri tra le altre cose perché lui a furia di pigiare su questa macchina rompe dei tasti e quindi aggiunge le lettere a mano ma è sempre la madre che gli compra la macchina da scrivere ed è Ruth che è capace anche ed è Tabita invece che è capace anche di dirgli a un certo punto quando gli offrono un lavoro aggiuntivo che gli permetterebbe di guadagnare un po' più i soldi e loro fanno veramente la fame l'unica cosa che fa Tabita gli chiede se tu accetti questo lavoro aggiuntivo ci riesci ancora a scrivere lui risponde guarda già ho poco tempo ora sarà difficile e lei gli dice allora non lo puoi accettare punto e ma stiamo facendo la fame faremo la fame ma tu non lo puoi accettare cioè la persona che ha creduto in lui al punto e scrittrice a sua volta peraltro e di tutto rispetto ha creduto in lui al punto di fare la fame insieme a lui cioè e king sa benissimo che senza queste due donne lui non sarebbe andato da nessuna parte lo dice proprio ripetutamente ma mi fai pensare una cosa e poi torno anche a Lovecraft che hai citato che king non ha mai dimenticato di essere stato un personaggio di Dickens credo che fosse una decina di anni fa e king fece una cosa se ne stava in macchina un giro per il main quando vede un un raduno una manifestazione sale su un pulmino si fa dare il megafono comincia thank god i am rich grazie a dio sono ricco fatemi pagare metà tassa e maledizione e comincia a spendersi e fa un comizio marxista verrebbe da dire bellissimo tra l'altro è improvvisato questa attenzione verso oggi li chiameremmo i poveri miseri gli ultimi cioè lui l'ha sempre avuta in un in un racconto di bellezza straziante che nel bazar dei brutti sogni herman book è ancora vivo che è un racconto che non non ha nulla di horror nulla di soprannaturale è un racconto soltanto che parla di povertà e parla della disperazione della povertà nel momento in cui tu non vedi una via d'uscita contrapposta alla grazia impotente di due vecchi vecchissimi poeti ecco quando king fa queste cose e quando riesce ad avere questo sguardo così lucido e empatico altra parola sempre abusata ma questa volta è proprio così verso un mondo a cui lui apparteneva beh insomma anche qui darebbe sbariate lezioncine ai suoi colleghi di oltreoceano e di questa parte dell'oceano e anche di qua per esempio una lezione che forse lui potrebbe dare sicuramente secondo me la dà per esempio in due uno è it sicuramente ma l'altro straordinario e cose preziose cioè in questi due straordinari libri lui dà una lezione gigantesca io la politicità di questi libri l'ho scoperta rileggendoli cioè non subito non subito perché forse ero vittima anche io perché poi i pregiudizi tu non devi soltanto giudicare i pregiudizi degli altri ma devi un po anche capire i tuoi no e per me king per tanti anni è stato un piacere con il cosiddetto piacere colpevole io nel frattempo studiavo letteratura americana mi dicevano che il canone americano era la lettera scarlatta ma la cosa peggiore di tutte che io leggevo questi testi canonici leggevo dall'altra parte king di nascosto e non riuscivo a capire che per esempio it è la lettera scarlatta è anche il berri fin cioè che it in it quei due romanzi per esempio ci sono ma ci sono volutamente volutamente perché poi questo è un altro aspetto che va compreso king è un uomo coltissimo la caratteristica che lui ha è che non fa distinzioni cioè che ha questa straordinaria capacità di cui molti di noi sono privi e noi abbiamo cercato almeno noi tu sicuramente anche io ci siamo sforzati di liberarci di determinate cose di determinate categorie no è un po il lavoro che tu fai da tempo e che io ho cercato di fare a mia volta no ci liberiamo delle categorie king le categorie non ce l'ha proprio non gliene importa niente da quando il ragazzino cioè il ragazzino lui che cosa significa essere ragazzino per king andare al cinema a vedere le mattine a vedere dei film di serie b qualche volta anche di serie c tra i film che vede c'è anche plan 9 from outer space di ed wood che è stato giudicato il peggior film della storia del cinema no poi ci ha fatto un meraviglioso film tim barton su questo lui vede anche quel film lì vede il mostro della laguna nera cioè vede i was a teenage werewolf tutta questa roba qua e l'adora e li adora così come adora un certo tipo di fumetto horror poi trova lovecraft e scopre dice un momento allora con questo tipo di storie ci si fa anche dell'altro e comincia a ragionare in un'altra maniera ma poi lui legge tutto quando a un certo punto gli chiedono quali sono i due libri che tu vorresti aver scritto cioè i famosi libri che quando tu li hai letti dici porca miseria perché non l'ho scritto io lui cita furore di steinbeck e luce d'agosto di faulkner quindi due classici del novecento lui ha letto anche quella roba lui ha letto tutto è uno degli scritto dei lettori più onnivori che io possa immaginare perché lui ha letto veramente di tutto anche i famosi blurb che lui fa e che qualche volta ormai ne ha fatti talmente tanti che ormai non sono esattamente una garanzia di di felice riuscita del libro che blurba perché qualche volta esagera un po' però fa parte di una sua generosità a fare tutto questo e soprattutto lui i libri legge ecco quindi questo è uno scrittore totalmente trasversale politico quando raggiunge il massimo della politicità e secondo me quando la raggiunge quando trova nella sua america perché king è un in questo somiglia molto a springsteen effettivamente no cioè un vero americano c'è uno che dice il vero americano sono io i veri americani sono i poveri no d'altronde ricordatevi il famoso detto sotto la la statua della libertà no non dice datemi i ricchi dice datemi i poveri datemi i poveri e io li accoglierò cioè questo quest'idea di accoglienza di tutti che è un sogno americano king ce l'ha ancora springsteen non ce l'ha ancora quando a un certo punto king si ritrova ronald reagan presidente va in crisi e dice non io questo non questo per me è inaccettabile ed è giusto è inaccettabile perché la reganomics è la negazione di tutto questo i ricchi sono ricchi e devono diventare sempre più ricchi i poveri devono stare sotto a raccogliere le briciole quest'idea e questo darwinismo economico e sociale lui non lo può tollerare e io credo che it e cose preziose in cose su cose preziose lui è stato esplicito ha detto io volevo fare una satira dell'america di reagan qualcuno non l'ha capito e mi dispiace che non l'abbia capito ma secondo me anche it è una terrificante un terrificante attacco a quell'idea di america e viene fatto senza mai fare politica la politica nasce dalla storia dai personaggi dalle scelte da quello che lui sceglie di raccontare non c'è mai proprio il modo esplicito di fare politica non c'è mai il modo dichiarativo ecco lui non dichiara lui racconta e più racconta e più è politico mi ha fatto venire in mente una cosa in it in realtà perché lui fa una cosa addirittura un atto di preveggenza probabilmente senza fare spoiler alcuno perché non avesse ancora letto it e leggetelo però se non l'avete fatto king a un certo punto dice che it perché il mostro la cosa attacca i bambini e mangia i bambini perché i bambini credono i bambini hanno la fede nell'immaginario e lui già allora riesce a capire questa curva strana questa strana polarizzazione fra razionale e non razionale che caratterizza i nostri anni ma che era cominciata allora era cominciata negli anni 80 gli anni del capitalismo rampante delle democrazie neoliberiste dell'io di tutto quello che vogliamo che però dicevano in sostanza lasciate perdere l'irrazionale l'immaginario la visione concentratevi su di voi e sui soldi e king già allora capisce che questa in realtà è la condanna è la condanna di derry ma derry è l'america come hai detto tu assolutamente lui questo secondo me lo ha capito lo ha capito in quegli anni o meglio è forse quello che ha capito che quel decennio americano con quel presidente con quell'immagine che il presidente propone anche di sé che è un'immagine illusoria ma anche un'immagine costruita proprio sull'idea solamente sull'idea di forza sull'idea di deterrenza e sull'idea di successo ecco che quest'idea di america è l'idea che si sta imponendo lui fa un atto di resistenza gigantesco contro questo e affida quest'atto di resistenza all'io bambino che è anche lo scrittore però perché lo scrittore per king è un bambino mi raccontavano che pare che il figlio no joe hill abbia detto io al cinema con mio padre non ci vado non ci vado perché mio padre è insopportabile quando guarda un film perché ancora di quelli che si mette a strillare si mette a dire guarda che l'assassino dietro la porta e urla come fanno i bambini no quando guardano un film cioè è è quest'animo bambino che lui non solo si auto riconosce ma che dichiara è ciò che deve caratterizzare gli scrittori e quando dice a un certo punto ray Bradbury ha ormai una certa età ha 70 anni e passa se lo guardate in faccia ray Bradbury è un bambino e per lui dire ray Bradbury è un bambino significa tanto perché Bradbury è uno dei suoi nomi tutelari insomma lui ha avuto i suoi e Bradbury sicuramente uno Lovecraft con qualche riserva con qualche riserva è un altro Mateson è un altro gigantesco e non abbastanza riconosciuto sono i suoi maestri cioè quelli su cui lui si forma e poi c'è la maestra delle maestre che è Shirley Jackson senza la quale probabilmente lui non avrebbe neanche pensato all'overlook per esempio solo per fare il primo esempio ne avrebbe pensato ben poco all'idea che il male si annidi in certi posti dove lui lo annida lo fa annidare fin dalle notti di Salem no c'è quest'idea che poi alla fine il male non è tanto il vampiro verosia il vampiro è ancora una volta la manifestazione l'estraneo che arriva a rompere ma non arriva a rompere un ordine arriva a svelare un disordine che è già latente che sta già nelle cose che sta già nelle piccole casette di una di una piccola cittadina no ecco le piccole cittadine di King sono un altro grande incubo contemporaneo è un grande incubo che secondo me anche in tanta cronaca nera perfino italiana noi andiamo a riscoprire continuamente no c'è quest'idea che poi il male si annida dove tu meno ti aspetti di vederlo no adesso inutile che stiamo a rievocare le varie cose da chi l'ha visto o da trasmissioni televisive però non c'è dubbio ci sono alcuni casi anche italiani che somigliano in modo inquietante a certe cose a certi scenari no che King ci racconta la cosa straordinaria delle case che lui chiama i brutti posti perché dice che le case infestate ovviamente pensando a quel assoluto capolavoro che è l'incubo di Hill House di Shirley Jackson a cui dedica un romanzo dedica l'incendiaria quindi è proprio un atto di grandissima di grandissima reverenza e poi in dance macabre scriverà delle pagine meravigliose su di lei però il brutto posto cioè quello che si carica delle energie negative che noi possediamo in realtà è anche il posto più sicuro proprio in dance macabre lui King dice perché ci fanno paura le case stregate perché noi a casa ci sentiamo sicuri perché dovrebbe essere il nostro posto e questa capacità di guardare nelle paure piccole che dove altri sai Lovecraft chiaramente costruisce delle teogonie mostruose dove antiche creature premono sul nostro universo da Jackson io credo che King prenda proprio questo cioè la capacità ma Jackson secondo me è stata quella che ha descritto meglio di chiunque altro la condizione delle donne nell'America degli anni 60 prima che Betty Friedan scrivesse la mistica della femminilità ma lei lo ha detto prima perché era già morta quando c'è stata una cosa io credo che con questi racconti che sono usciti ora queste due raccolte di racconti no fatte da Delfi questa cosa diventa ancora più evidente perché lì in quei racconti lei lavora in modo totalmente trasversale cioè a volte fregandosene del genere a volte raccontando proprio storie di banale quotidianità in cui però viene inserito quell'elemento di rottura certi alcuni di quei racconti hanno fatto pensare per esempio in chiave femminile a certi racconti del primo ciber tipo ne so la radio enorme o cose simili cioè questi racconti che in cui ancora una volta siamo dove in questi soborghi apparentemente tranquilli con queste famigliole apparentemente in cui tutto va bene in cui sono tutti belli il papà la mamma i bambini eccetera eccetera poi tu entri dentro e basta un piccolo granello che va fuori posto e all'improvviso tutto quest'ordine si rivela totalmente fittizio e tutti i personaggi rivelano un'altra faccia prima di tutto anche nel caso di Sherry Jackson gli uomini che spesso sono orrendi e quegli uomini orrendi somigliano molto agli uomini orrendi di King tra l'altro uomini bassi in soprabito giallo direbbero coloro che conoscono la torre nera ora se non ci fermate Luca e io andiamo avanti fino all'alba di domani io tra l'altro non ho l'orologio con me quindi non so a che punto possiamo andare che possiamo possiamo altri dieci minuti possiamo perfetto perché non abbiamo detto ancora la cosa più importante vi ripeto fermateci perché sennò cominciate a prendere il caffè domani mattina alle 6 io e Luca siamo ancora qui a parlare però ancora io non ho fatto la domanda più importante che è la traduzione allora un po' ne abbiamo un po' fatto scenno Luca tra l'altro in questo libro con grandissima generosità cioè ricorda come è stato confrontarsi con le altre voci di King Tullio Dobner prima poi Vuming 1 e Giovanni Arduino prima prima che King diventasse uno scrittore attenzionato nel senso qui si cominciava a dare credito le traduzioni sono state molto casuali a volte ci sono libri che andrebbero onestamente ritradotti speriamo che non voglio non voglio dare peso al Luca ulteriore penso proprio che accadrà però penso proprio che accadrà di cosa perché sono dei libri che vanno ritradotti però allora confrontarsi certamente con le voci di prima per cercare di capire il ritmo però raccontaci anche qualcosa di cosa significa cimentarsi con una scrittura che ripeto è tutt'altro che semplice che si impasta anche con il dialetto molto molto spesso e che tende una non pochi tranelli anche al traduttore più esperto molti tranelli e allora intanto sicuramente sì c'è un discorso a quale io anche accennavo e di cui cioè un po' la mia idea di traduzione cioè quando uno si entra quando si entra in un contesto nel quale l'autore ha già una o più voci in primo luogo tu non le puoi ovviamente scimmiottare perché ognuno di noi ha la propria voce però le devi ascoltare quindi io di solito quando traduco mi leggo il libro proprio per analogia me ne faccio mi viene in mente uno dei libri precedenti di King che mi suona ma mi suona non sul piano della trama eccetera mi suona proprio sul piano di quella di quella che è la lingua che vedo scorrere davanti ai miei occhi quindi mi viene in mente non lo so mi può venire in mente un libro dico per l'istituto per esempio paradossalmente io non è che sono andato a leggere l'incendiaria cioè non mi interessava particolarmente mi interessava andare a leggere una roba un po mainstream e mi sono andato a leggere un po il King diciamo art case crime e via dicendo me lo sono ripreso ho letto anche Joyland per esempio mentre facevo l'istituto sembra assurdo ma se uno pensa a quelle prime 50 pagine tanto assurdo non è no allora quindi ho sempre fatto questo traducevo intanto mi rileggevo qualcosa scritto da qualcun altro perché io credo che poi da un certo momento in poi cioè da quando è stato attenzionato King sia complessivamente stato trattato bene nel senso che io sono di quelli che pensano uno che nella scuola sua modalità particolare di tradurre con i tempi in cui non c'erano gli strumenti che abbiamo oggi che Tullio Dobner abbia fatto un lavoro miracoloso miracoloso e che quindi semmai oggi l'unica cosa che si deve fare mano a mano che si ripubblicano è semplicemente andare a guardare i punti nei quali non disponendo degli strumenti che abbiamo oggi può avere equivocato dei passaggi però la resa della voce di Tullio era una cosa straordinaria io penso che Vuming Uno che ne ha fatti due abbia fatto su quei due libri molto importanti perché ha intercettato due titoli ma non tu traduci 22 novembre 63 e traduci Notte e Buia cioè stai traducendo roba e ha fatto una riflessione sulla lingua di King molto profonda e Giovanni è probabilmente uno dei più grandi conoscitori e quindi è uno che invece ha portato dentro la traduzione tutte le sue conoscenze che erano enormi quindi massimo rispetto nei confronti del lavoro di loro tre e sottolineo dal mio punto di vista anche che quando mi è stato chiesto ti va di tradurre King io la prima domanda che ho fatto ho detto sì ma c'è già qualcuno che lo traduce quindi mi è stato detto in quel momento che Giovanni non ce la faceva era in burnout da eccesso perché pure lui se ne è fatti 12 mi pare sì anche anche Vuming Uno è andato in burnout da eccesso anche se ne ha fatti solo due perché esatto io per fortuna per il momento sopravvivo ma ecco per il momento sopravvivo ma sto già alle prese come sapete adesso a maggio uscirà una una raccolta corposa che io definire di racconti poi boh ce n'è uno corposa almeno questo diccelo 500 e passa pagine perfetto di cui soltanto uno da solo sono 180 pagine perché come al solito poi racconto per chi è un concetto molto aleatorio come potete immaginare quindi ci sto già lavorando ma per il momento reggo però ecco la prima cosa che ho chiesto ho detto scusa io non vado a fregare il lavoro a uno che per giunta lo ha fatto bene perché se fosse uno che l'ha fatto male tanto quanto allora ha avuto il via libera mi sono messo a lavorare poi questo lavoro è un lavoro estremamente complesso perché per l'appunto per esempio dove diventa proprio evidente nel modo assoluto la ricchezza di registri che king utilizza è per esempio nei dialoghi e i dialoghi di king vengono raramente citati cioè non viene considerato secondo me a torto non viene considerato un grande dialoghista invece è un grandissimo dialoghista e naturalmente in quei dialoghi lì siccome lui è attentissimo a fare in modo che ogni personaggio abbia una voce slightly different rispetto a un'altra c'è sempre una piccola differenza tu se quella piccola differenza cioè la devi riprodurre con degli strumenti che non sono gli stessi ahimè perché noi purtroppo abbiamo o la lingua italiana o il dialetto il dialetto non si può usare perché purtroppo non si può sentire lo dico onestamente non è che tu puoi far parlare un personaggio di king il romanesco o il napoletano cioè sono stati fatti questi tentativi ogni tanto in passato ma quindi tu devi usare devi sporcare devi lavorare a sporcare la tua lingua e a dare alla tua lingua un ritmo che sia molto vicino a un parlato spinto e sai che comunque sei sempre in una condizione di estrema approssimazione rispetto all'originale che è un po la frustrazione con cui il traduttore si confronta costantemente quando lavori appunto su una lingua come la lingua inglese che essenzialmente non ha la dimensione lingua dialetto ovvero sia ce l'ha ma c'ha più la dimensione lingua sublingua è chiaro che lo scozzese o l'australiano sono diversi però fondamentalmente negli stati uniti fondamentalmente c'è il cosiddetto american english e tutto viene classificato come american english dopodiché quando steven king decide io voglio fare lo scrittore del main per esempio e si mette a parlare in in fa parlare i personaggi con la calata del main cavolo ecco io ho avuto solo una fortuna che prima di tradurre king ho tradotto l'ansdale e questo mi ha molto aiutato perché l'ansdale per esempio è uno che ovviamente scrive in texano punto e quindi ha proprio quella quell'andazzo io poi mentre traduco l'ansdale mi sento anche quello quel twang che è proprio l'andamento texano perfino parlato quindi avendo tradotto prima l'ansdale quello mi ha un po introdotto a quest'idea di come si fa ecco a rendere una lingua a rendere le sfumature di una lingua che è impastata di dialetto oltre al fatto che in tutta questa fase mentre tu fai questo lavoro devi stare attento ai famosi tranelletti che lui ti tende e lì devo dire la verità devo spezzare una lancia anche a favore di sperling cioè dell'editore di king che è teoricamente se uno guarda il catalogo no della casa editrice non sembra l'editore perfetto ma io devo dire che lì lavorano persone di veramente di grandissima qualità c'è una persona che mi affianca nel lavoro di revisione della traduzione se io per caso e qualche volta può succedere mi perdo un riferimento mi arriva la revisione attenzione qui questo è questo pezzo lo trovi questa questo è un riferimento evidente a e in quel caso era tradotto così quindi tu non lo puoi tradurre in quest'altro modo è veramente c'è questa meravigliosa ragazza che si cecilia che fa le revisioni che è forse la persona più brava e forse la persona che conosce veramente king tradotto meglio di chiunque altro quindi in quello va anche riconosciuto che che sono fortunato perché ecco lavorare con un editore così bravo cioè che lavora con tanta cura i testi e anche per quello io insisto hai ragione tu sul fatto che un editore che ormai ha praticamente tranne tre titoli tutto il catalogo di king certi testi non li può lasciare come sono io penso non tutti ma penso che ci siano quattro cinque testi che hanno proprio bisogno di una ritraduzione poi ognuno la propria fissa per me la mia fissa è la zona morta per esempio per me la mia fissa è l'ombra dello scorpione che non ha sperling in realtà però l'ombra dello scorpione fa soffrire moltissimo per come si a parte che mi fa soffrire anche il titolo penso anche a te anche a me perché uno comincia a soffrire dal titolo e poi andando avanti moltissimo mentre lo legge sì grazie